Sì, la maggioranza ha ben presente il problema causato involontariamente dalle problematiche che sono verificate sulla metro in alcune stazioni e ha interloquito costantemente con le associazioni di categoria. Nell'incontro a cui si riferiva la consigliera Celli c'eravamo io e c'era il presidente Stefano di incontrare le associazioni di categoria. Purtroppo non è potuta intervenire l'assessore Meleo perché ha avuto un contrattempo. L'interlocuzione è continua e l'attenzione è massima, tanto è vero che la maggioranza con il consenso dei proponenti ha sottoscritto questa mozione. La mozione stessa che ha già approvato una mozione analoga, quella che partiva dal disagio dei commercianti del Cavalcato di Giulio Rocco e però lo ha esteso a tutte le situazioni similari che prevede la normativa sia comunale che quella nazionale che richiamava la consigliera Celli. Quindi siamo consapevoli che c'è stato un disagio e chiediamo alla Giunta un impegno affinché possa contenere questo disagio con le agevolazioni previste da legge e da regolamento. Grazie.